I migranti impiegati nei campi di Nardò potranno soffrire di prestazioni assimilabili a quelle erogate da un ambulatorio di medicina generale convenzionata e questo tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Nei casi in cui si presenta la necessità di assegnare un medico di base al lavoratore migrante, il distretto sociosanitario di Nardò provvederà all'assegnazione e sarà a carico del personale ASL a attivare le procedure di attribuzione e rilascio del codice STP. E quanto l'ASL si è impegnata a fare sottoscrivendo il protocollo contro il caporalato venerdì scorso in prefettura a Lecce. Nel campo in località Arena Serrazze dunque è stato attivato il tanto atteso presidio medico-sanitario allocato in un modulo abitativo dedicato. Le organizzazioni e gli enti firmatari si sono impegnati a garantire un servizio di mediazione linguistico interculturale a supporto del personale medico e di consulenza poi dei diritti socioassistenziali. I medici saranno selezionati tra quelli del servizio di continuità assistenziale ed eventualmente tra medici della graduatoria e dei punti di assistenza turistica dell'ASL. Dalla prossima settimana saranno disponibili ancora medici del lavoro e tecnici della prevenzione anche a bordo dell'unità mobile per migranti e rifugiati organizzata da Cooperativa Sociale Rinascita, Istituto di Culture Mediterranea e Consiglio Italiano per i Rifugiati per interventi mirati in zone dove si addensano i lavoratori. Grazie. Grazie.